Il gioco ha ripreso il cuore, lo fa correre, lo fanno scattare avanti, nero, destra, sinistra, gli chiedono come vanno, non vanno. Già venire, riniziare a mettere le scarpette. Ma adesso ci avevo fatto la foto lì e poi mi mettevo lì, beh. Fai le foto, fai le foto, fai le foto, fai la foto, fai la foto, fai la foto, c'è Matteo in campo, no, non c'è Matteo in campo. Che belle panchine, eh? Scegli che la? Beh, c'eravate venuti anche voi qua all'intertap? Io però c'era la mia moglie, la Samantha, che non lo ricordavo. La venina, la venina, la venina, la venina, la venina, la venina. Sì, sì, perché tutta la Winter Cup è stata qua, è stata qua, è stata fatta.